Batte forte il cuore di Centro per il Centro che quest'anno avrà una finalità specifica, quella della solidarietà alle popolazioni terremotate, in particolare a sostegno di una famiglia colpita dal terremoto di Amatrice, ma di questo parleremo tra poco. Abbiamo il direttore artistico Pasquale Zuccarino. Maestro, intanto, come sarà il programma di questa edizione dell'evento? Sono particolarmente orgoglioso di essere riuscito a costruire un cast di prezioso livello. Personalmente aprirò il concerto, dopodiché assisteremo al concerto di Ambrogio Sparagni insieme a Peppe Servillo. Il concerto porta per titolo Fermarono i Cieli. È un po' la Napoli della metà del XVIII secolo, quindi avremo un po' quella cultura popolare riarrangiata e rielaborata attraverso gli annaggiamenti del maestro Sparagni e interpretata vocalmente dal grande Peppe Servillo. In segno di speranza dedicherete i fondi di questa iniziativa ad Amatrice? Noi siamo una comunità che purtroppo ha avuto bisogno di solidarietà e abbiamo avuto solidarietà. Quindi quello che dico, ma molto, molto pragmaticamente, cerchiamo di esserci al concerto, cerchiamo di fare solidarietà perché fa parte della nostra indole, del nostro dovere etico, del nostro dovere morale. La prologo di Avellino, nella persona del direttore, del presidente Marco Mallardo, ha individuato una famiglia di Amatrice, quindi avremo, come dire, una consegna specifica, oggettiva, già all'indomani del concerto. Quindi, cari Erpini, il 28 dicembre, presso l'advitorum del Conservatorio Domenico Scimarosa di Avellino, vi aspettiamo per un grande concerto di solidarietà in solidarietà.